Buona giornata, buona giornata amici, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è martedì 10 ottobre 2023 e vediamo subito chi si festeggia oggi. Lo vediamo nell'almanacco del giorno e troviamo San Daniele Comboni. Comboni, un santo missionario, anzi un grande missionario. Andò in Africa tre volte, fece tre viaggi memorabili. Fu un grande evangelizzatore di popoli, fondò diversi istituti maschili e femminili e ancora oggi i Comboniani seguono il suo esempio. e operano attivamente in Africa per cercare di dare una indipendenza economica, politica e soprattutto sociale a questi popoli che sono veramente diseredati. San Daniele Comboni, un santo da tenere presente. Le previsioni del tempo, vediamo anche la cartina di oggi sulle Marche. Anche oggi è una fotocopia della giornata di ieri. Una giornata ben solleggiata su tutta la regione, con cieli sereni o più velati. Clima molto caldo, con massime oltre i 30 gradi. Le minime si sono attestate sui 18, comunque la temperatura media è sui 27, i 30 gradi sono delle punte. I venti sulle coste da una direzione debole da ovest-nord-ovest, mentre nell'interno da ovest-sud-ovest il mare è leggermente mosso. Una temperatura dunque ancora estiva, ma si crede che durerà ancora per poco, perché poi arriveranno le perturbazioni dall'Atlantico. E allora apriamo oggi il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo subito il titolo di apertura. Si parla del porto di Fano, da cui è emerso un vecchio problema, quello dei fanghi, quello dell'innalzamento del fondo marino e quindi della necessità del dragaggio. Il porto di Fano deve essere dragato perché in questo momento ci sono difficoltà per la navigazione dei pescherecci che devono entrare e uscire dalle darsene. Il porto di nuovo interrato. Portate via i nostri fanghi. Il Comune alza la voce con l'autorità portuale che dovrebbe rendere disponibile questa benedetta cassa di colmata, un luogo dove depositare i fanghi. Perché non si procede ad un dragaggio nuovo? Perché poi non si sa dove mettere i fanghi. E fin quanto non sarà disponibile questa cassa di colmata, così si chiama, una struttura che è in atto e dovrebbe essere finita, ma la cui costruzione è durata tanti, tanti anni, tanto che ancora, da vecchia data, molti fanghi sono sistemati nella banchina del porto di Fano e nell'area di Fantasy World a Torrette. Il porto di nuovo interrato, ripetiamo. Il Comune alza la voce con l'autorità portuale. Ebbene, si è fatto sentire il vice sindaco Cristian Fanesi in un recente incontro con l'autorità portuale che deve dare il via libera per il trasferimento dei fanghi già stoccati da Fano fino in Ancona, ma con questo potrebbe da autorizzare anche il nuovo dragaggio che dovrebbe essere finanziato dalla Regione Marche perché il porto di Fano, contrariamente al porto di Pesero, che è soggetto direttamente dall'autorità portuale, dipende invece dalla Regione Marche. Ed ora parliamo anche di protezione della costa perché c'è una bella notizia. Lo pubblica il Corriere Adriatico su questo articolo di Spalla. Scogliere al bersaglio affidato all'appalto. C'era ancora un vuoto nella protezione della costa, quello antistante l'ex pista dei go-kart, dove l'acqua poi entrava e causava anche problemi per quanto riguarda i residenti. Ebbene, finalmente l'assessore Fanesi ha dato una buona notizia. Sono stati affidati i lavori nella zona del bersaglio per il completamento delle scogliere. Un intervento atteso dai cittadini in un tratto di litorale che nel tempo ha subito notevoli effetti dell'erosione. Il progetto, del valore complessivo di 1.650.000 euro, prevede la realizzazione di tre setti di scogliere, è stato assegnato all'impresa toscana Battistini Costruzioni di Follonica dopo un processo di selezione e valutazione delle offerte. Finalmente anche questo tratto di mare verrà così chiuso per proteggere la costa ed era uno dei pochi vuoti che erano rimasti nella tutela del litorale dal porto di Fano fino alla foce del Metauro. Ed ora parliamo di politica. Parliamo di politica perché insomma le notizie si accavallano, si avvicendano giorno per giorno. Siamo ormai in piena campagna elettorale e le elezioni del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale di Fano non sono molto lontane. E allora che cosa accade? Accade che gli esponenti delle liste civiche devono trovare una loro collocazione e sembra che confluiscano tutti in azione questa forza politica a cui ha già aderito il sindaco di Fano. Il sindaco di Fano ha lasciato il suo partito di provenienza, la sua lista civica ed è passato ad azione. Azione appare come un po' l'attrattore per la galassia delle liste civiche fondate dal sindaco Massimo Seri, Noi città, Noi giovani. Ebbene, si dice che Enrico Cipriani, capogruppo della lista Noi città, ed Edoardo Carboni, capogruppo della lista Noi giovani per Fano, abbiano pensato di entrare in azione. Ancora non c'è una conferma ufficiale, ancora forse si deve maturare, ma secondo le indiscrezioni, insomma, la via è quella. E quindi vedremo che azione si presenterà nelle prossime elezioni politiche con un numero di soci più rappresentativi. E si è scritto ad azione anche un terzo consigliere comunale proveniente dalla galassia Seri e Giampiero Pedini, che però si era allontanato da quell'esperienza, confluendo nel gruppo misto, manifestando delusione, una delusione nei confronti in modo particolare del sindaco. e pur facendo parte della maggioranza, Giampiero Pedini non aveva nascosto il suo senso critico, insomma, da una parte aderiva la maggioranza, ma dall'altra, insomma, si poneva in una situazione al margine tra la maggioranza e l'opposizione. Ed ora parliamo di un altro problema endemico della città di Fano, quello del traffico. Quello del traffico nel centro storico, compenetrato da diversi veicoli a motore, nonostante che sia una zona a traffico limitato. Traffico intenso nel corso, gravi rischi per i pedoni. Li denuncia Eugenio Cassiani, che è presidente dell'associazione Forbici, un'associazione ambientalista che persegue l'obiettivo della incentivazione della mobilità sulle due ruote, oppure quella pedonale, rispetto a quella del traffico motorizzato. Forbici chiede regole migliori per l'accesso dei fornitori in centro storico. E rivediamo questi grandi camion, questi furgoncioni, diciamo così, che penetrano nel corso cittadino, oppure nelle vie strette, via Froncini, via Nolfi. Insomma, vediamo questi grandi camion che riforniscono i negozi, ovviamente lo debbono fare, perché i negozi hanno bisogno dei loro prodotti, ma dovrebbero farli in una maniera un po' contenuta, in un certo orario, con certe modalità. Cassiani, per esempio, suggerisce di spostare i prodotti su delle cargo bike, oppure su dei mezzi più limitati, per quanto riguarda le loro dimensioni, che possono percorrere agevolmente le strade del centro storico, ma soprattutto occorre un orario ben definito, al di là del quale il traffico motorizzato non dovrebbe essere più ammesso, questo secondo appunto gli ambientalisti. E poi parliamo di Terme di Carignano, Terme di Carignano, per non dire niente, perché non c'è nessuna notizia, nulla si muove in merito a questo grande progetto che è stato presentato con grande enfasi molti mesi fa, ormai era anche l'anno scorso, al cinema Masetti, un grande progetto di rinascita di questa frazione, con le Terme, però da allora nulla si sa, nulla si muove, e non c'è nemmeno nessuna dichiarazione dal gruppo Romani, che è il proprietario delle Terme, di quello che ha comperato dal falimento appunto dei proprietari precedenti, e non vuol dire nulla, no comment è la risposta appunto di questi imprenditori. Ed ecco perché il comitato pro Terme in calza chiede chiarezza sul progetto di Carignano. Vediamo qui a fondopagina la foto di Beatrice Morbidoni, che è l'attivista, la presidente del comitato Terme di Carignano. Una bella iniziativa è quella attuata dalla Caritas, che nel mese di agosto ha attivato la mensa a sostegno. Nel mese di agosto la mensa di San Paterniano è chiusa, ha bisogno di un mese di respiro, dopo che per 11 mesi si è impegnata molto, molto consistentemente, devo dire, per fornire i pasti a tante e tante persone bisognose, tra cui anche molti fanesi. Ebbene, nel mese di agosto, quando la messa di San Paterniano è chiusa, entra in funzione la mensa a sostegno, un'iniziativa attuata dalla Caritas nel centro pastorale di Ocesano. Ebbene, oggi i giornali pubblicano i dati dell'attività di questa iniziativa. Pensate, ci sono stati, nei 30 giorni in cui è rimasta in funzione, sono stati 102 i volontari che si sono alternati nel servizio, quasi sempre mettendosi a disposizione addirittura per più giorni, con una presenza media di 19 volontari al giorno. Più della metà dei volontari, ovvero il 64%, erano donne che avevano compiuto meno di 35 anni. Le ore totale di servizio sono state 2.349, divise tra cucina, 775, l'accoglienza e l'animazione, che non è mancata, 537, e il servizio ai tavoli, le consegne dei pasti e il recupero delle eccedenze, 1036 ore, veramente un pacchetto importante. Sono state beneficiate dal servizio mensa 127 persone, 47 donne e 80 uomini. Questo è un po' un consuntivo di questo servizio, benemerito, importante, che viene attuato ogni agosto, ogni mese di agosto, nell'anno, anche in futuro, insomma, è una cosa che si protrae di anno in anno. Ebbene, ora passiamo invece a Fossombrone e vediamo una dichiarazione dell'onorevole Antonio Baldelli. Sono arrivati quattro nuovi agenti nel carcere di Fossombrone. Il deputato Baldelli elogia l'attività della casa di reclusione di Fossombrone, in quanto con questo nuovo apporto di organico si avranno più agenti migliorando le condizioni di lavoro e di vita appunto anche degli altri e soprattutto si cercherà di dare un minimo di servizio in più a coloro che sono detenuti. Ma torniamo a Fano, torniamo a Fano perché a fondo pagina della pagina dedicata alla Val Metauro abbiamo un'iniziativa che è stata presentata ieri in conferenza stampa nella sala della Concordia del comune di Fano. Ebbene il comune di Fano ha deciso di acquistare una delle casette di Metauriglia quelle da tutti chiamate le casette del Duce un intervento di bonifica che è stato fatto negli anni 30 all'epoca del fascismo quando tutta una zona di carattere agricolo è stata urbanizzata ma urbanizzata con circa 100 casette con tanti orti con tanti servizi ebbene dal punto di vista storico una di queste casette verrà acquistata dall'amministrazione comunale dietro l'impulso del circolo Albatros 87 di Metauriglia e questo progetto è stato presentato ieri in Consiglio Comunale ce ne sono ancora 10 di queste casette che sono rimaste praticamente intatte se ne acquisterà una i prezzi variano da 40.000 a 100.000 euro tutto l'intervento di ristrutturazione costerà 300.000 euro ed ora il Comune si impegnerà a trovare i fondi vediamo ancora notizie che riguardano la Valcesano si parla di antenne ne vedremo poi altri elementi di questo argomento trattati nella pagina di Pesaro l'antenna 5G è già installata impugnata e la sentenza al Tar c'è un ricorso della cittadinanza contro questa nuova antenna si sa purtroppo come vanno a finire questi ricorsi però i consiglieri buonaccorsi e gentili sollecitano il sindaco a presentare questa iniziativa nei confronti del Tar sperando che ci sia la possibilità di spostare questa antenna che sì è utile per dare funzionalità ai telefonini ma occorre trovare un sito che sia più appropriato vediamo la pagina di Senigallia anche qui si protesta non per le antenne ma per la demolizione di alberi ebbene sono gli alberi che dovrebbero essere abbattuti per il restyling che l'amministrazione comunale sta attuando tra Viale Mercantini e Colso Matteotti appunto a Senigallia dove si prevede di abbattere 23 pini la battaglia dei residenti si vuole anche più sicurezza perché questi alberi crescendo hanno alzato l'asfalto ci sono ridotte delle crepe crepe che procurano anche problemi ai ciclisti li fanno cadere e quindi è una situazione pericolosa che deve essere rimossa vediamo ora qualche notizia di Pesaro dove appunto si parlava di antenne così come vi ho anticipato però a Pesaro la situazione è migliore anche qui sono nati i comitati di protesta vi ricordate Soria Tombaccia eccetera numero di antenne dimezzato meno siti e nuovi accorpamenti è il frutto dello studio della Polab una ditta che è stata incaricata dal comune per presentare appunto questa situazione questa situazione che sarà poi comunicata ai cittadini riorganizzazione delle richieste dei gestori si va dunque verso nuove regole che dovrebbero appunto osservare i gestori stessi delle antenne la Polab società specializzata in elettromagnotismo e piani di telefonia mobile ha avuto questo incarico 100.000 euro di risorse comunali appunto costa lo studio l'incarico di progettazione è stato affidato a fine luglio scorso del 2023 e dentro fino entro la fine di ottobre è prevista la presentazione del piano ma già qualche notizia è emersa ovvero il numero delle antenne sarà dimezzato questa è una buona notizia per quanto riguarda i residenti e allora vediamo anche gli effetti a Pesaro di quella tragedia che sta scoppiando tra i palestinesi e gli israeliani ovvero tra la striscia di Gaza e Israele allerta Hamas resta chiusa la sinagoga di Pesaro la sinagoga di Pesaro doveva essere aperta alle visite come sempre accade alla terza domenica del mese ma questa volta sarà chiusa per precauzione la sinagoga in questo periodo verrà chiusa secondo una decisione adottata al termine di un confronto che è avvenuto tra la prefettura di Pesaro e il presidente della comunità ebraica delle Marche le dimore di Pavarotti e Severi due scrigni di storia e di bellezza sono al centro delle giornate fai d'autunno l'anteprima sarà con i ragazzi del conservatorio ebbene la villa di Pavarotti l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi sul San Bartolo fu la residenza per oltre 30 anni del grande tenore e aprendo le sue porte sarà curioso vedere insomma l'ambiente in cui viveva il cantante mentre sull'ardizio abbiamo la villa di Meuccia Severi piena di importanti sculture una collezione d'arte conservata sia all'interno che all'esterno nel giardino certo susciterà la meraviglia dei pesaresi ed ora apriamo il resto del carlino vediamo l'apertura sulla pagina di Fano dedicato ad un intoppo e beh intoppi non mancano mai quando si parla di progetti importanti l'intoppo questa volta si riferisce all'exagip questo triangolo di superficie che dovrebbe essere arredato con un nuovo progetto i lavori sono imminenti probabilmente partiranno ugualmente ma questa volta ci si è messa di mezzo la sopraintendenza che essendo stata interpellata dal comune ci si è messa di mezzo e vuole esaminare il progetto progetto all'exagip la sopraintendenza chiede le carte l'ente ha acquisito la documentazione l'assessore Brunori non interferirà con il cronoprogramma assicurato eppure l'intervento doveva essere già partito ma a quel momento ancora non lo è chissà se partirà prima che la sopraintendenza esprima il suo parere perché poi la sopraintendenza ci mette del tempo per esaminare le cose non è che lo fa in 448 insomma è una cosa che richiede tempo e speriamo che insomma questo progetto che proviene da lontano tutto il tempo della bonifica vi ricordate e poi il distributore quanto tempo ormai è passato ha incontrato un ultimo inciampo largo spazio il resto del carlino dedica alla casetta del duce che verrà acquistata dal comune vediamo qui un'immagine del progetto iniziale di Metauriglia della bonifica di Metauriglia con tutta la serie di casette e gli orti che si estendevano nella superficie invece qua vediamo un rendering per quanto riguarda la nuova casetta che verrà acquistata dal comune non è una nuova casetta è una casetta vecchia che però sarà ristrutturata vediamo qui come verrà rimessa a posto ci sarà un pezzettino di orto ci sarà un luogo di riunioni qua nel retro della casetta questo è lo spazio di entrata di ricevimento qui l'angolo della narrazione dove si potrà sedere su una seduta circolare e poi qua abbiamo l'area con dei tavoli dove ci si può e qua abbiamo poi il deposito degli attrezzi la stalla e via dicendo e dentro verranno rimessi dei mobili d'epoca insomma sarà un presidio per quanto riguarda questo eco museo che Albatros ha realizzato su tutto il territorio voglio dire un importante un importante luogo da visitare non incentrato in un'unica struttura ma diffuso su tutto il territorio ed ora parliamo di un fatto increscioso un fatto increscioso perché c'è stato un attacco verbale su Facebook da parte di una persona alla consigliera regionale Marta Ruggeri insulti alla consigliera Sciacquetta lei però denuncia nel merino ancora una volta l'esponente di 5 Stelle Marta Ruggeri aveva fatto un post su Facebook in cui criticava l'ipotesi dell'impasto della regione è stata attaccata da una persona con un commento veramente inqualificabile l'autore da alla Ruggeri della Sciacquetta le consiglia di dedicarsi alla polizia di scale eccessi pensate e le consiglia di tenere la bocca chiusa e di andare a lavorare per poi concludere lascia stare la politica è una cosa seria per te è troppo difficile detto questo a Marta Ruggeri fa sorprendere perché onestamente uno la può pensare come vuole ma è un fatto che Marta Ruggeri è una delle più attive consigliere del consiglio regionale ricca di emozioni ricca di interrogazioni insomma un attivista veramente molto molto incisiva ed ora vediamo le altre notizie la povertà non va in ferie agosto record per la mensa e la mensa a sostegno corriamo per quanto riguarda invece un problema di cartoceto che da un anno è senza farmacia senza farmacia da più di un anno pioggia di firme recapitate al sindaco e così non può restare e con questo noi concludiamo la nostra rassegna stampa dandovi come sempre appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci a domani a domani a domani Grazie.